Benvenuti a questo nuovo appuntamento di analisi su mercati finanziari, io sono Alessandro Magagnoli responsabile dell'ufficio studio del sito ftaonline.com oggi andremo a guardare come vedete dalla copertina, quelli che sono in questo momento secondo l'analisi tecnica i titoli più interessanti nell'ambito del mercato italiano prendiamo spunto da questa tabella che pubblichiamo quotidianamente dove vedete sono riportati alcuni titoli scelti tra i 100 più scambiati nell'ambito del nostro listino c'è solo un titolo bancario che è Mediobanca in ultima posizione, in decima posizione poi vedete per il resto ci sono invece alcuni titoli tipicamente difensivi o Campania Moncler che sono legati ai consumi in particolare anche al settore premium quindi una situazione abbastanza interessante cerchiamo di guardare il quadro grafico di questi strumenti per capire se la loro presenza in questa tabella che appunto cerca di evidenziare la condizione di trend più forte ovviamente è una situazione che può proseguire ancora o se invece ci sono ostacoli imminenti quindi resistenze imminenti al proseguimento del rialzo prima di tutto diamo però un'occhiata al nostro Fuzzimib questo è il grafico intraday con candele orarie vediamo che oggi siamo scesi a testare il 38,2% retracement del rialzo dai minimi del 20 di marzo ma soprattutto siamo scesi a testare vedete questo gap rialzista che si era aperto il 30 di marzo e che per adesso sembra aver tenuto il ribasso c'è questa linea ribassista che possiamo disegnare dal massimo del 19 di aprile una linea che passa in area 27.100 il superamento di questa dovrebbe segnalare un tentativo di rimbalzo più consistente di quello che abbiamo già visto nelle ultime ore senza superamento di 27.100 invece c'è il rischio di un ulteriore approfondimento vi faccio notare che qui c'è un altro gap da ricoprire intorno ai 26.350 punti ma passiamo adesso ai titoli che abbiamo detto che vogliamo seguire iniziamo con A2A passiamo passate adesso a un grafico invece a candele giornaliere A2A è reduce dal completamento di una bella figura rialzista questo testa spalle vedete la prima spalla è il minimo del mese di luglio la seconda spalla è il minimo del mese di dicembre e ovviamente la testa è invece il minimo intermedio quello di ottobre se prendiamo l'ampiezza della figura e la proiettiamo dal punto di rottura della neckline quindi l'altezza della figura dalla neckline al minimo e la proiettiamo dal punto di rottura della neckline che è avvenuto in questa seduta l'11 di gennaio vedete un primo target che era quello del 61,8% di proiezione è stato testato a più riprese negli ultimi giorni ma superato proprio nelle ultime due giornate quindi adesso dovrebbe esserci spazio per salire su quello successivo che è la proiezione del 78,6% che ha più o meno lo stesso livello del gap ribassista del 23 di maggio scorso quindi se il prezzo dovessero arrivare in A2A potrebbero incontrare una resistenza importante sopra quei livelli invece spazio per salire intorno a 1,70-1,71 passiamo adesso rimaniamo sempre sul stesso settore passiamo a IREN che sta disegnando una bella tendenza rialzista dai minimi dello scorso ottobre c'è però da dire che la seduta di oggi vede un rallentamento in questo momento siamo marginalmente negativi c'era stato un tentativo di allungare il passo nella prima parte della giornata vedete siamo molto vicini al lato alto di questo canale che parte appunto dai minimi di ottobre ieri c'era stata una decisa rottura quindi il ripiegamento odierno potrebbe essere solo un pullback verso il lato alto del canale dove potrebbero andare i prezzi? guardiamolo con i ritracciamenti di Fibonacci la prossima area importante è quella del 50% dei ritracciamenti calcolati dai massimi di novembre del 2021 intorno a 2,09 dove abbiamo anche questo importante minimo del 7 di marzo dello scorso anno importante perché vedete una candela molto particolare con questa lunga quota verso il basso a suo tempo era stato un ottimo livello di supporto e adesso sarà una resistenza importante quando i prezzi dovessero arrivarci sopra mantenerei un'intonazione positiva come prospettiva a meno di discesa di sotto di 1,92 guardiamo poi OVS titolo che recentemente si è dimostrato interessante ma come vedete da questo grafico nelle ultime sedute si è arrestato perché ha trovato sono mai molti giorni che sta diciamo premendo questa resistenza ha trovato il 78,6% di tracement del ribasso dal massimo di dicembre del 2021 non è improbabile la rottura della resistenza il fatto che i prezzi stiamo continuando a premere appunto al ridosso di questa rende abbastanza probabile il suo superamento però fino a che non saremmo di sopra di area 2,77-2,78 meglio rimanere prudenti perché potrebbe anche verificarsi una correzione sopra 2,78 invece dovrebbe esserci spazio per tornare in area 3,10 almeno quindi OVS da seguire con attenzione ma con un po di pazienza prima di intraprendere eventuali operazioni al rialzo per quello che riguarda mar abbiamo una fase crescente che ha accelerato in maniera abbastanza evidente nel recente passato andiamo a vedere il lato alto di questo canale anche in questo caso vedete c'è stata una rottura qualche giorno fa anche una discreta accelerazione i prezzi hanno disegnato questa candela shooting star il 24 di aprile non sono poi più riusciti a fare nuovi massimi rispetto a quella anche in questo caso direi che pur con diciamo una buona prospettiva di proseguire il rialzo penso sia necessario mantenere un atteggiamento prudente fino a che non ci sarà la rottura del massimo di quello shooting star direi che guardando prendendo in considerazione anche i ritracciamenti a questo punto si può aspettare la rottura di 14 e 43 14 e 45 prima di sbilanciarsi nuovamente al rialzo per il test dei 16 euro se dovessimo rientrare al di sotto di 13 e 67 e 13 e 68 potrebbe invece esserci una fase di ripiegamento un po più consistente notiamo che il movimento visto dai minimi di marzo si è sviluppato in cinque onde molto netto il movimento prima ondata rialzista correzione seconda correzione e ultima ondata rialzista probabilmente se andassimo a calcolare le proporzioni scopriremo che c'è similitudine tra la prima e la terza onda rialziste quindi tra questa onda e questa c'è una discreta similitudine e soprattutto se andiamo a guardare la proporzione tra la prima onda e la terza e quindi la onda 1 onda 2 onda 3 onda 4 onda 5 se prendiamo l'ampiezza di onda 1 la proiettiamo dal minimo di onda 2 per 1 618 volte che è la cosa che si fa diciamo classicamente per individuare l'ampiezza di onda 3 il target di onda 3 vedete che lo ha individuato proprio in maniera perfetta quindi si può parlare di un movimento in cinque onde completato e questo vuol dire che appunto fino a che non saremo di superiore a 14 e 45 c'è il rischio di dover assistere ad una fase di ripiegamento questo movimento di rialzo visto dai minimi di settembre potrebbe essere anche una correzione visto che è contenuta sostanzialmente all'interno di un canale una correzione completa e quindi ancora una volta senza il superamento di questo livello di ritracciamento del 38 2 per cento retracement si rischia una fase di flessione di ripiegamento abbastanza ampia che potrebbe anche tornare sulla base del canale ci rimane di questa ultima diciamo serie da guardare unipolsai qui abbiamo visto una reazione molto decisa negli ultimi tempi che però si è arrestata intorno a questa resistenza di area 2,44 andiamo a vedere se siamo in corrispondenza di un livello di ritracciamento significativo la quota di resistenza importante era il 50 per cento che è stato già superato e si colloca a 2,40 2,41 quindi in questo momento non ci sembra non ci sono ostacoli particolari nel prossimamente rialzo almeno finale a 2,50 prudentemente fino a che rimaniamo nell'ambito della fase laterale che si sta disegnando ormai da qualche settimana meglio mantenere un atteggiamento neutrale sopra 2,45 target come abbiamo detto verso 2,50 attenzione invece perché sotto 2,40 potrebbe essere che questa fase laterale si dimostri un piccolo doppio massimo e allora potrebbe esserci una correzione di tutta questa salita che è stata ampia e veloce quindi rischia di essere ampia e veloce anche la fase di ripiegamento andiamo a vedere cosa ci rimane fuori campari e moncler sono i primi due che andiamo a guardare quindi passiamo adesso al titoli un pochino più pesanti tra virgolette in termini di rappresentazione all'interno del listino siamo con questa fase ribassista che si era sviluppata nell'ultima settimana non mi sembra che abbia fatto danni particolari andiamo a verificare con le medie mobili se è stata violata la 50 giorni esponenziale che quella che a mio avviso va seguita sempre per avere una idea di quella che la condizione del trend almeno di quello di breve termine c'era stata la discesa di sotto però nella seduta di oggi i prezzi sono tornati al di sopra per adesso il rientro di sopra la media non è così netto però mi sembra che il movimento correttivo che come vedete si è sviluppato in tre segmenti si possa dire completato la fase che stiamo vivendo è in ottica di più lungo periodo il ritracciamento di tutta questa discesa che si era sviluppata dai massimi del 2021 siamo però saliti oltre il 61,8 per cento di risalzamento il che vorrebbe dire che a questo punto dopo l'appunto la rottura di questa resistenza si potrebbe salire fino a 12 e 40 6 45 46 che è il livello successivo 78 6 per cento quindi impostazione positiva meno discesa di sotto di 11 e 50 vediamo monclair se anche lui si può considerare ancora al rialzo la seduta di oggi è negativa come saldo però si mantiene all'interno di quella di ieri praticamente non ha per adesso comportato la relazione di supporti importanti diciamo che la situazione diventerebbe pesante al di sotto della base di questo impiccato che questa candela disegnata il 26 di aprile intorno a 65 60 sotto quei livelli potrebbe venire segnalato l'inizio di una fase correttiva un po più consistente questa media che stiamo vedendo questa curva verde è la media esponenziale 10 giorni vedete come ha funzionato molto bene durante tutto l'ultimo rialzo come supporto e anche oggi sembrerebbe aver tenuto perché i prezzi l'hanno testata nell'intraday ma ci stanno chiudendo sopra quindi ripeto mantiene per adesso un'intonazione positiva al titolo si dovrà poi scontrare in caso di prossimo rialzo con questo massimo del novembre 2021 intorno al 70 euro e 30 vediamo cosa ci è rimasto della nostra tabella da guardare abbiamo inuit enel e mediobanca oggi facciamo una carrellata molto ampia ma diciamo che vista situazione delicata del mercato giusto avere un po di alternative sulle quali puntare attenzione uscendo un attimo magari da quelli che sono i titoli principali qui abbiamo visto questa prolungata fase laterale che è stata superata in netta accelerazione a inizio marzo la proiezione dell'ampiezza della fase laterale ci dà un'idea di dove potrebbero andare i prezzi ovviamente la proiezione del 100% è il target diciamo che potrebbe essere il target terminale del movimento prima che ci sia una fase correttiva importante però tutti i livelli di fibonacci sono significativi per quello che riguarda appunto la ricerca del target vedete sul 50 per cento di proiezione c'è stata una bella lotta i prezzi stamattina hanno provato ad allungare il passo però adesso si è disegnata questa candela hanging man quindi un impiccato è vero che la chiusura di oggi è notevolmente superiore a quella di ieri ma la tipologia della candela impone di essere prudenti a questo punto direi che meglio aspettare la rottura di 12 e 75 per puntare in quel caso al ritorno in area 13 e 80 quindi non interverrei in ottica rialzista se non sopra 12 e 75 e avrei invece timore del rischio di evoluzione negativa se il prezzo deve essere scendere sotto area 12 e 37 12 e 35 se non ricordo male abbiamo detto di guardare anche enel togliamo un attimo questo che è uno dei nostri trading system anche qui abbiamo visto un titolo che oggi sta archiviando la seduta venerdì con un saldo positivo ma anche in questo caso abbiamo una candela hanging man che si sta profilando all'orizzonte la tipologia della candela hanging man spesso è seguita da una fase di ripiegamento vi ricordo che tuttavia tutte le volte che compare una candela significativa o un pattern significativo di candele è sempre necessario attendere la rottura queste sono i tracciamenti orizzontali e il ventaglio fibonacci nessuno dei due sta interferendo con i prezzi al momento attuale come vi dicevo è sempre necessario attendere una conferma dopo la comparsa di questa tipologia di candele prima di poter dire che le loro implicazioni si sono effettivamente avverate quindi solo se ci saranno discese sotto 6,08 che è il minimo di oggi il nostro hanging man diventerebbe capace di condizionare negativamente il trend qui vediamo 2, 4, 6, 8 candele positive consecutive non so se è un record ma sicuramente una successione così prolungata non è comune e quindi anche normale che dopo una fase rialzista così duratura ci sia una correzione metterei qui la media mobile esponenziale a 20 giorni come riferimento per quel che potrebbe essere il primo livello di correzione se i prezzi essero scendere sotto la media a 20 giorni ci sarebbe il rischio di vedere appunto iniziare un ritracciamento più consistente di tutto il rialzo che c'è stato dai minimi di marzo supporto critico a 5,86 5,85 vediamo se abbiamo concluso la nostra carrellata forse ci rimane da guardare Mediobanca titolo molto rappresentativo sapete che Mediobanca ha una forte correlazione con l'indice Fuzzimib a volte anticipa i movimenti dell'indice quindi è un titolo che vale sempre la pena di seguire con attenzione oggi è in calo un po' con tutto il comparto bancario ieri aveva disegnato anche lui questa candela impiccato oggi ha messo sotto pressione il minimo dell'impiccato non è ancora terminata la seduta potrebbe riuscire a chiudere al di sopra del minimo di ieri quindi il segnale potrebbe essere rimandato sotto area 9,65 ci sarebbe da temere una fase di calo più consistente il primo supporto sarebbe la media mobile esponenziale a 100 giorni che passa a 9,50 anche qui vedete come la 10 giorni che invece è la curva verde abbia contenuto molto bene i prezzi negli ultimi giorni peraltro in questo momento siamo esattamente coincidenti con la media 10 giorni notiamo che i prezzi stanno disegnando questa fase laterale che potrebbe essere assimilabile ad un doppio massimo proprio in corrispondenza del 61,8% di retracement del ribasso dal massimo di febbraio il fatto che il 68% di retracement non sia stato superato impone di essere prudenti perché sappiamo che quella è la soglia discriminante tra una correzione e un tentativo di inversione quindi fino a che area 9,75 non sarà saldamente alle spalle c'è il rischio che questo rimbalzo visto dal minimo di marzo si dimostri solo una fase correttiva vi ringrazio l'attenzione e vi auguro un buon weekend anzi anche un buon ponte visto che siamo vicini al primo maggio e comunque ci manterremo in contatto con i soliti commenti video